Ciao, vediamo insieme come creare un effetto testo come questo, dallo stile vintage e pop art insieme, con Adobe Illustrator. Vediamo subito come. Una volta creato il nostro file per l'interfaccia di Illustrator, selezioniamo un font molto netto e pulito come potrebbe essere Open Sans, diamogli una dimensione abbastanza grande, in modo da ricoprire gran parte dell'area di lavoro, e scriviamo la nostra parola. Dopodiché possiamo eventualmente andare a modificare dal pannellino Carattere, eventualmente la distanza tra le varie lettere che compongono la parola, oppure lasciare tutto così come di default. Dopodiché assicuriamoci di dare un colore di riempimento standard, che potrebbe essere nero. Per comodità potremo andare nel pannello Livelli e dal menu in alto a destra andare su Opzioni Pannello, dopodiché su Altra e diamo per esempio una dimensione di 60px per quanto riguarda la visualizzazione delle icone, e quindi dei vari livelli nel pannello Livelli, questo per gestire meglio tutti i livelli di lavorazione. Dopodiché facciamo lo zoomare indietro per comodità, Alt più scroll del mouse, dopodiché selezioniamo il livello test originale e facciamo una copia in modo da preservare il livello testo e lo trasciniamo fuori. Dopodiché selezioniamo di nuovo il livello testo, andiamo sul menu Oggetto, Distorsione involucro, Crea con altera, selezioniamo l'opzione Arco, magari modalità verticale, e andiamo a selezionare per esempio dei parametri che potrebbero essere questi, per avere un effetto testo simile a quello che vediamo nel video, dopodiché clicchiamo su OK. A questo punto andiamo a tracciare il livello testo con l'effetto Distorsione involucro, quindi con il livello selezionato andiamo sul menu Oggetto, Espandi, flaghiamo oggetto e riempimento e clicchiamo su OK. Bene, ora con l'effetto Distorsione involucro applicato andiamo a fare una copia di questo livello con l'effetto applicato e lo portiamo su. Torniamo a selezionare il livello originale, andiamo a farne una copia, dopodiché trasciniamo la copia un po' verso destra in questo modo. Selezioniamo entrambe le composizioni, quindi i gruppi tracciati, li vediamo qui selezionati da perno livelli, andiamo sul menu Oggetto, Fusione, Crea, Di nuovo oggetto, Fusione, Opzione di fusione, come modalità scegliamo Passaggi specificati e applichiamo una distanza di 250. Ora andiamo sul livello copiato in precedenza, andiamo a dare per esempio un colore diverso di riempimento, io l'ho fatto aprendo con doppio clic il colore principale, andiamo a dare per esempio questo arancione, poi trasciniamo questo livello qui in modo da farlo compacciare con la parte frontale, possiamo anche spostarlo manualmente in questo modo, nascondiamo il livello testo originale, dopodiché dovremo andare ad applicare un riempimento al livello testo che si trova appunto sopra, quindi nella parte superiore. Qui abbiamo due strade, o selezioniamo il livello testo, poi dal menu Campioni andiamo a selezionare, qui nella parte bassa, il riempimento di tipo Pattern, poi Grafica Base, eventualmente Grafica Base Pattern 2, ce ne accorgiamo perché lì praticamente abbiamo la possibilità di scegliere tutta una serie di riempimenti composti appunto da puntini che si distribuiscono in varie modalità, qui possiamo scegliere la modalità che preferiamo, oppure andiamo a disegnare un rettangolo che sostanzialmente va a ricoprire l'intera area del livello testo appena posizionato sopra, dopodiché andiamo a dare come riempimento appunto lo stesso che avremmo dato in precedenza, ma potrebbe essere appunto un Pattern a fatto di puntini come questo. Dopodiché apriamo il pannello Livelli, selezioniamo il livello rettangolo, lo andiamo a copiare, CTRL O COMMAND C e lo nascondiamo. Andiamo poi a selezionare il livello del testo che sta al di sopra di tutti, quello che ha momentaneamente il riempimento arancione, dopodiché andiamo ad aprire dal menu finestra il pannellino Trasparenza, selezioniamo Crea Maschera, dopodiché selezioniamo il riquadro nero e il CTRL O COMMAND V andiamo ad applicare appunto la nostra selezione. La spostiamo, clicco su Ritaglia ed ecco qua. La maschera viene applicata e la possiamo andare a ridimensionare secondo quelle che sono le nostre esigenze, in modo da far rientrare l'effetto esattamente come vogliamo noi e distribuirlo esattamente come desideriamo. Torno a cliccare sul livello, in modo da interrompere le modifiche della maschera, ho terminato il mio effetto, posso andare a selezionare tutta la composizione, eventualmente andarla a ridimensionare con Shift più il mouse, trascinando logicamente una delle ancore che si trovano negli angoli, in modo da ridimensionarla in modo proporzionale. A questo punto non mi resterà che selezionare il tutto, tasto destro, raggruppa, oppure CTRL O COMMAND G, in modo da avere un unico livello che contiene tutti i livelli lavorati, che insieme costituiscono la composizione, effetto vintage e pop party che abbiamo appena creato. A questo punto non ci resterà che selezionarla, tasto destro, esporta selezione, dare un nome alla nostra selezione, dare una destinazione ed eventualmente un formato diverso, che potrebbe essere anche PDF, se vogliamo mantenere la possibilità di editare la tracciabilità, quindi la vettorialità del nostro file. Oppure PNG o JPEG, se vogliamo destinare ad esempio questo file per il web. Cliccheremo su esporta risorsa e avremo terminato. Quello che Illustrator ci permette di realizzare con i testi, è praticamente qualcosa di infinito, nel senso che ci sono numerevoli soluzioni creative che possiamo adottare per le nostre esigenze. Ad esempio, possiamo creare in modo altamente efficace un testo 3D isometrico per le nostre grafiche, in modo assolutamente e totalmente personalizzabile. Ti lascio qui il video in cui ti mostro come realizzare questa tecnica e diventarne padrone in pochi semplici step. Ciao, grazie e al prossimo video!